Ciao a tutti ragazzi, io sono Razor e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui in questa modalità chiamata One in the Chamber Assieme a Mr. Gold Eagles, eccolo lì Ed insieme a questo tizio qua, iTechnoGamer che sta saltando Ok, benissimo Guardate, lui guarda il terreno per vedere se trova qualche effetto No, in realtà sono in F5 però Sì, vabbò, tutte scuse Comunque, oh, questa mappa mi piace Ah, mi sta sfidando Io c'ho l'arco Rainbow, mi sento potente Ok, questa, ok, qui c'è una tipa E adesso ho qualche al duccio Ok, 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 l'ho già beccata Ok, ho già fatto una kill Quello là, anch'io ho fatto una kill No, cavolo, anzi sì Spawn killer, spawn killer No, cavolo, no, no, no Cacchio no, mi ho ucciso Ok, son morto Però ho già fatto una kill solo No, non ci credo, veramente Ops, ops Ero io Ok, io sto scappando perché Oh, terza kill, terza kill, benissimo Son pure quarto Ragazzi Tecno mi sa che è primo qua Sì, vabbè, non vorresti Secondo Secondo Wow, 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 wow Scusa, scusa Mannaggia te ragazza Madonna Oh, bellissima Questa kill, bellissima Sala in posizione Ma dai, l'avevo colpito Buon incendio Ti mostro tutto Ok Sono primo ragazzo Bene, bene No, no, cavolo Ok Ho già fatto cinque kill Eh sì, però cinque Ok, sei Molto bene Come sei? No, mi stai raggiungendo No, son morto C'ho ancora quattro vite Ok Io c'ho l'ultima vita Eh, sei uno sfigatello Vabbè, non si dice Vai, vai Comunque mancano ancora Novanta secondi Just Razor Just Razor Wow, wow, wow Che volo Eh sì, vabbè Ma perché arrivano Ok, ok No, sono morto Eh, comunque sono sempre Oh, sette kill, ok Ok Allora, io c'ho molta paura Perché c'ho solo più tre vite Fortunato, fortunato No L'ho mancato Spari Spari, madonna Che mi metti ansia Oh Guarda, guarda questo Ti metto ansia Infine, tu sei lì con l'arco Ok No No, cavolo Senta che qualcuno mi sta guardando Madonna, no, ragazzi Ho solo una vita Anch'io No, no, no Mi ha visto Just Razor No No, c'ho solo due vite Eh, tu due Io una Oh, cavolo Ok Ok Sì Mi sei quasi beccato una freccia da me Cacchio Oh, chi c'ho dietro No No Sì, 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 sì Buono, buono Anche se No, star Sì, io c'ho abbastanza paura Devi fare cinque kill per vincere Io Io basta Io sono arrivato secondo E va bene Io poi adesso faccio tutto Spettatore Ok Intanto Ce ne sono ancora Mancano sedici secondi Veloce, veloce, veloce Veloce Voglio ancora fare almeno una kill Vai, vai, vai Questo qua lo prendo Questo qua lo prendo Ma, poverino No, no Sta qua forse era ultima Adesso c'è uscita No, sono morto Sei morto? Ti è ucciso malissimo No, non vale, non vale Vabbè, facciamo GG Perché ci sta comunque No, io direi Di farne un'altra Tanto questa è durata poca Esatto Bene, eccoci qua Questa è la seconda partita Molto bene Io non ho mai visto sta mappa Nemmeno io non ho mai visto sta mappa Però vabbè, fa niente Bene, allora questa È la prima volta per tutti Esatto È la vostra prima volta per morire Ok, prima kill Prima kill Ma che cazzo Così a caso, va bene No, no, ce n'era uno No, 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 no Dai, come sono morto Però questa mappa è abbastanza grossa Mannaggia Oh, 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 oh Ti capisco, ti capisco, ti capisco Bravi Ok, bene Seconda kill Adesso sono primo No, andiamo, andiamo Io non ho fatto ancora una kill No, sono già secondo No, non è giusto però Quello lì citta C'è un kill Dai, però Ok L'ho mancato Ma è possibile che so Ho sacchietto del cazzo, madonna Sono morto di nuovo Ma che cavolo Mi ho preso, non ho ancora fatto Aiutami Mi do anche E che cavolo Dai, non è possibile Sta gente schifosa Eh, sono morto anch'io Sono morto anch'io E' lo sacchiotto lì Ok, ok, ok Come? Quanto power c'era Ok Vieni qua, mi stai col deagles Inutile che fai così Io sto un po' recuperando ma Ecco Ok A me mi mancano due vite Non ho fatto un cazzo per adesso Sono a zero, mi sa No Ho ucciso uno Mentre lui ho ucciso uno Ok, ho ucciso una tipa Molto bene Oh, madonna Mi sono rotto, madonna Mi sono rotto adesso Spacco tutti È un team Io sono già morto Ok Come c'è un team No, ho spiegato una freccia Comunque Io sono quarto Sono sempre quarto Ho fatto sei chi Madonna che tattica Questo qui, madonna Ma le tattiche No, quello lì Mi ha tipo Lui non sparava frecce Finché non si è avvicinato a me E mi ha sparato una dritta in faccia Così Cavolo Io pensavo che non aveva di frecce Perché non me la sparava Ok, ti vedo Tecnogamer Vieni qua Che facciamo team Un attimo No, fermo Questo non lo posso mancare Ok Comunque io sono secondo Ok, gg Com'è che Mr. Gold Eagle St'ha fatto solamente una kill? Eh, perché fai schifo Perché mi sta laggando No, c'è dei micro lagg Non so perché Sto le volte che faccio PvP Non ci capisco niente Ok, qui c'è un'altra tipa O forse la stessa di prima Eh, vorresti eh No, mi uccide, lo sacchiotto Lo sacchiotto mi uccide Lo sacchiotto mi uccide Ragazzi, la ultima mia vita Ok, sono morto ragazzi Adesso faccio tutto spettatore Ok, intanto Io c'ho ancora due vite Ok, l'ho mancato Vabbè, fai niente Com'è che proprio Ti voglio aspettare Perché non sono andato Ok, l'ho ucciso Mamma mia che pro Madonna Sono terzo Just, se non arrivi prima Ritirati Andiamo a vedere Cosa sta facendo Lo strazo Guardalo, guardalo, guardalo Scende Furtivo Lo uccide Molto bene E niente La partita è finita Ok Bene ragazzi Siamo giunti a termine Di questo video Fantastico A dir poco Ovviamente Come al solito Vi invito a mettere Un bel mi piace A commentare A descrivervi Sia al mio canale Che al canale Di questi due tizi Ovviamente Link in descrizione Anche voi Esatto E niente Noi ci vediamo prossimamente Ciao ciao Bello Bello